e siamo in diretta. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar targato iSport, l'azienda Sarda che sbarca in borsa e prosegue in quello che è il suo processo di crescita. Nata nel 2006, iSport è l'azienda isolana brand leader nel settore della sponsorizzazione tecnica di sport, di squadra, individuali e partner delle società sportive professionistiche di tutta Europa. Bene, per avviare questo percorso ha deciso di dar vita ad un'operazione di crowd listing. L'obiettivo è quello di allargare la base societaria, aumentare il patrimonio in vista degli ulteriori step di crescita. Sarà guidata in questo percorso dalla piattaforma Opstart, leader italiana nel settore fintech, che accompagna le PMA e le medie imprese nel loro ingresso sul mercato azionario per approdare all'Euronext di Parigi, che è di fatto il principale mercato finanziario e borsa valori pan-europeo nell'Eurozona con più di 1300 titoli quotati. Per parlare di questa operazione di crowd listing e in questo webinar abbiamo dei relatori importanti. Questa sera saranno presenti Alessandro Ariu, che poi è io, il founder di iSport, Giacomo Marchiori, consulente finanziario, Alexandra Iacubosca, che speriamo di avere presto perché mi pare che abbia qualche problemino tecnico, che è la responsabile ufficio acquisti e logistica di iSport e infine Anna Raschi, che è business operation manager di Opstart. Direi dunque di dare subito la parola al primo relatore di questa sera, Alessandro Ariu. Prego. Buonasera a tutti e buonasera a tutte le persone che si sono collegate. Intanto per prima cosa volevo ringraziare quelli che ad oggi, a due settimane dalla partenza della nostra raccolta di crowd listing, hanno investito in iSport. Sono oltre 30 persone. Tra l'altro qualcuno ha avuto piacere, mi ha anche contattato in forma diretta via LinkedIn. Abbiamo anche già scambiato qualche parere. Mi ha fatto anche qualche domanda molto specifica. Diciamo che stiamo partiti bene. Adesso l'importante sarà realizzare più valore nel più breve tempo possibile, anche perché comunque per noi i nostri piani vanno avanti, siamo in forte crescita. Abbiamo ferma intenzione di realizzarli. Una breve introduzione sull'azienda, per chi non ci conosce. Io sono Alessandro Ariu, sono il fondatore e l'amministratore di iSport, azienda che è in campo dal 2006, quindi noi penso che contrariamente a quelle che sono la stragrande maggioranza delle aziende sulla piattaforma Opstart. Non siamo una start-up, ma siamo un'azienda che ormai è attiva da quasi 15 anni e che sta realizzando passo a passo tutta la propria crescita ed è un'azienda solida, strutturata, che ha necessità esclusivamente di andare a colmare quel gap che ci separa dal nostro now a quello che poi è realmente il nostro fatturato. Una breve introduzione per chi non ci conosce. Io sono un ex calciatore professionista che ha, diciamo, 24 anni, ha scoperto di avere insomma degli infortuni che avrebbero comunque limitato la propria crescita professionale e da lì ho incominciato un percorso di lavoro con poca, sicuramente con poca preparazione tecnica nel settore tessile o delle calciature sportive in cui ho incominciato a lavorare, ma con molto entusiasmo e, diciamo, grinta quella che mi ha sempre contraddistinto e continua tutt'oggi a tenermi, insomma, sempre sul pezzo nel lavoro. Ho incominciato a lavorare per una start-up che, insomma, è il giro di pochi anni che ha portato a grande successo. Successivamente ho lavorato per aziende leader nazionali, oltre che per delle multinazionali. Quindi ho, diciamo, attraversato tutto il percorso che porta dal campo al prodotto, al studio del prodotto, a quello che è la sua vendita, a quella che è la sua innovazione. E tutto questo nel 2006, dopo l'ennesimo infortunio, questa volta giocando a calcetto tra amici, è sotto stretto, insomma, consiglio dei miei amici più stretti, uno di questi, il dottor Marchiori. Ho deciso di portare tutte queste mie conoscenze in qualcosa che fosse mio, dove realmente potessi mettere un po' voce e occhi in tutto il percorso. Da lì iSport è cominciato, insomma, un escalation che nel tempo, inizialmente, soprattutto per il fatto che, diciamo che all'interno di iSport ho portato tutte quelle che sono le mie esperienze e conoscenze, che ci consentono di avere un prodotto, certamente di qualità medio-alta, che riusciamo a vendere a un prezzo medio-basso. Perché? Perché saltiamo molto, o quanto meno, arriviamo realmente, seppure nelle nostre dimensioni, insomma, che non sono di multinazionale al momento, saltiamo tanti percorsi che aziende normalmente, oggi, che sono i nostri competitor, nel tempo io per loro ho fatto il consulente, gli ho spiegato, gli ho insegnato come si facessero certe cose. Oggi, facendo direttamente per la mia azienda, diciamo che saltiamo molti di questi percorsi e riusciamo ad avere dei contatti primari con tecnologie e con percorsi di prodotto che altri non possono avere. Questo, quindi, ci consente di stare sul mercato con, ripeto, una qualità medio-alta, un prezzo medio-bassa e molto conveniente. Sviluppiamo, principalmente, le nostre vendite con i negozi in francese. Perché? Perché realmente, avendo sfruttato la filiera con un controllo molto stretto e con una forte know-how che va dalla scelta dei filati, per farvi un esempio, insomma, chi non è tecnico del settore non può, magari, essere tediato da discorsi molto tecnici, ma vi rendo, insomma, in maniera facile l'esempio. Che ne so, un filato altamente tecnico rispetto a un filato poco tecnico, la differenza iniziale del prezzo primo a livello industriale rasenta il 2-3%. È normale che su grandissimi numeri o su aziende che cercano di estremizzare i profitti può essere un numero alto. In iSport, per la nostra velocità, nella nostra filiera, è un numero che rappresenta veramente poco e che però poi, in fase di vendita, riusciamo a dare con un valore aggiunto molto superiore. Questo è uno dei segreti principali della nostra azienda. Facciamo anche un'analisi di mercato poi nel nostro business plan, per chi lo avesse guardato, e abbiamo visto, notato, non che non lo sapessimo, che a un percorso di crescita e di immagine dell'azienda corrisponde a una crescita di fatturato. Nei primi anni, principalmente, ci siamo centrati su basket e volley. Perché? Perché sono degli sport in cui il livello, ve lo dice un ex calciatore, sia il livello culturale delle persone che ci giocano, ma anche il medio, che anche non essendo degli sport di massa, diciamo, come il calcio, ma piuttosto dei dirigenti, privilegiano un attimino quello che è la qualità tecnica del prodotto. Avendo un prodotto molto tecnico, siamo riusciti a sfondare, tra virgolette, in maniera molto veloce e anche molto forte e importante. Considerate che nel volley, inizialmente, siamo arrivati a sponsorizzare la nazionale italiana di beach volley e il suo campionato, oltre che tutt'oggi continuiamo a sponsorizzare una squadra polacca che fa, tra l'altro, anche la Coppa Europea e il campionato polacco. I polacchi sono tra i primi al mondo nel volley. Nel basket, in Italia, abbiamo vinto lo squadro con la Dinamo Sassari, abbiamo sponsorizzato il basket Torino, Palla Canestro Cantù, abbiamo il basket Napoli che sta per approdare in Serie A, faranno gli scongiù gli amici napoletani che ci seguono oggi, ma siamo, insomma, a due partite dalla vittoria. Abbiamo fatto un percorso di crescita molto importante e in questo momento siamo stati, tra l'altro, statisticamente, il marchio che ha la maggior visibilità nel campionato italiano. Nel calcio abbiamo, contrariamente a quella che potesse essere la mia storia, iniziato questo percorso di crescita dalla Lega Pro, principalmente, insomma, l'anno scorso, nel senso che prima abbiamo sempre avuto delle scuole di Lega Pro, ma veramente una, due. L'anno scorso, in maniera importante, abbiamo scelto di distribuire il nostro budget pubblicitario tra tutta l'Italia. Quindi, la Nord, abbiamo preso la Pro Vercelli, che è una realtà storica molto importante, è, diciamo, detenuta dall'anno scorso da una società molto giovane, con persone, come piace dire a me, che stanno molto sul pezzo, che sono molto reattive e con quelle si può collaborare molto bene. A Sud abbiamo preso, a Profondo Sud abbiamo preso il Calabria, Catanzana, insomma, che è una squadra storica che nel passato ha fatto anche Serie A, che è un bacino molto importante, del capologo di regione della Calabria, con tifosi molto affezionati, ma soprattutto con una società molto solida e organizzata. Poi abbiamo preso la Turris in Campania, diciamo, nel cuore, nel triangolo dei nostri concorrenti più importanti, che quantomeno realizzano i fatturati più importanti, e abbiamo, insomma, completato con Olbia, che avevamo già noi, che è in realtà Sard, dove comunque ci fa sempre piacere essere presenti, avendo comunque la nostra base in Sardegna. Questo percorso ci ha consentito già da quest'anno di farci notare e, diciamo, non tutto capita per caso, abbiamo concluso durante l'anno la responsabilizzazione del Chievo Verona, che adesso dal 1 luglio, diciamo, entrerà in vigore con il nuovo contratto, che ci accompagnerà fino al 2025. Parlo della responsabilizzazione perché? Perché per degli investitori è sicuramente molto importante. Cresce la notorietà e la visibilità del marchio, cresce il fatturato in proporzione. Considerate che, oltre a entrare in iSport SPA, non sarà esclusivamente parte della WA-SRL, ma realmente la WA-SRL è una cosa che magari non abbiamo molto pubblicizzato, ma ha due società che sono controllate, che detengono una parte dei nostri negozi monomarca. Negozi monomarca che, insomma, che vanno molto bene, che prendono tutta la linea e che, tra l'altro, consentono a WA nel 2019, ha avuto un bilancio consolidato, al di là di quello esclusivo da WA, di oltre 5 milioni di euro. Con il Covid nel 2020 l'azienda ha perso più o meno il 18%, quindi diciamo che se la media nazionale nello stesso settore è stata di oltre il 30% di perdita, con la strategia di marketing che abbiamo dovuto attivare in pochissimo tempo nel 2020, siamo riusciti a contenere un attimino le perdite. Per il 2021, insomma, una bellissima notizia, a oggi abbiamo superato il pari periodo del 2019, di orte il 15%, e per tutti gli ordini, gli ordinativi, le attività che abbiamo messo in essere, nel 2021, diciamo che sfonderemo sicuramente il muro dei 4 milioni e arriveremo probabilmente intorno ai 4 milioni e mezzo, quindi diciamo che crescerebbe il bilancio di oltre il 50% rispetto al 2019 e, di concerto, di oltre il 30% rispetto al 2019. Questi sono un po' i risultati e un quadro completo degli esporti. Non so da quanto sto parlando, perché io parto... Allora, sono 9 minuti e mezzo e ancora un po' di minuti, abbiamo dato dei tempi tecnici, non l'ho detto all'inizio, di circa 10 minuti a testa, quindi non c'è problema se vuoi continuare a parlare... Una cosa molto importante per chi, logicamente, dovesse decidere di mettere del capitale in iSport. Vi invito a verificare un attimino quello che è il nostro business plan. È stato redatto in maniera molto semplice, realmente, perdonatemi, come dico io sempre in azienda, quando si passa informazioni devono essere a prova di scemo, non perché qualcuno sia scemo, ma perché così anche chi ha il minimo dubbio possa capire tutto. Realmente iSport negli anni è stata costruita e portata su reinvestendo puntualmente tutti quelli che sono stati gli introiti, quindi i ricavi dalle vendite. E se consideriamo che si è partiti con 5.000 euro nel 2016, ho fatto due calcoli e penso che con quello che dovremmo raccogliere con la raccolta crowd e la successiva quotazione in borsa a Parigi, ci consentirà realmente di portare un bilanciamento tra quello che è la nostra notorietà, il nostro now e quelli che sono i fatturati. Di conseguenza i nostri investitori possono immaginare quelli che siano i reali moltiplicatori che riusciremo a creare. Ripeto, non con una start-up, quindi un'azienda che sta partendo, ma con un'azienda strutturata e che negli anni soprattutto ha dimostrato di conseguenza di fare programmi, tra virgolette, non promesse e realizzare le termine degli anni. Perfetto, grazie. Allora, diciamo, a parte ringraziare Alexandra Jakubowska che è entrata praticamente nel webinar a iniziativa, seminario è già iniziato, avevamo i problemi tecnici, quindi la troviamo adesso e quindi la salutiamo in diretta. Tecnicamente vi spiego come funziona. Adesso ha parlato ovviamente il CEO e il founder di iSport, Alessandra Ryu. Interverranno i relatori, abbiamo detto tempo tecnico una decina di minuti e poi alla fine ampio spazio alle domande, quindi siccome stanno già arrivando qualche intervento, qualche richiesta di chiarimento, lo dico perché ci sta seguendo, potete porre le vostre domande e poi a fine degli interventi dei relatori risponderanno ovviamente ai vostri dubbi e alle vostre domande. Il secondo relatore di questo webinar è Giacomo Marchiore, consulente finanziario che salutiamo nuovamente e ci parlerà di quello che poi tecnicamente è il piano di sviluppo del crowdlisting di iSport. Prego. Grazie Fabrizio, ringrazio sia te, ringrazio anche Alessandro sia per la presentazione, che è sempre molto emozionante, sia per avermi rubato buona parte dell'intervento. Nel senso che quando ci siamo sentiti telefonicamente io avevo piacere e non vorrei essere pedante, ma vorrei rimarcare questi due aspetti perché noi li diamo per scontati. Li diamo per scontati come azienda che esiste dal 2006 e che fa un fatturato vero, fa utili da 150.000 euro l'anno veri, che cresce esponenzialmente negli ultimi anni con una media del 12-15% l'anno tolto l'anno del Covid evidentemente. L'anno del Covid di un'azienda, rispetto, aspetto determinante, un'azienda in funzione, un'azienda che esiste, un'azienda che cresce, un'azienda che ha un suo immobile, puntualmente in leasing, che quindi genera un valore, ma non un immobile, ha il proprio magazzino, 1500 metri quadri di magazzino più 500 metri quadri di uffici che costituiscono uno dei grandi potenziali e ovviamente dei grandi punti di forza dell'azienda. A parte la produzione dell'abbigliamento a marchio A, evidentemente, la AA è un'azienda strutturata. Come ha evidenziato Alessandro nel suo intervento, la AA, propria di un'organizzazione che la vede con un fatturato di 3 milioni e 6 prima del Covid nel 2019, una piccola contrazione del 18%, purtroppo, ma i dati del settore sono pubblici, quindi sappiamo il livello di perdite e su questo poi avrei bisogno anche di fare un'ulteriore analisi, un ulteriore aspetto, in quanto io, più che consulente finanziario, sono un analista finanziario, ho cercato di dirlo un po' a tutti. Ecco, diciamo che non vorrei essere, diciamo così, bollato di colui che si dichiara diversamente da quello che io mi occupo di analisi, non di consulenza in ambito finanziario. Per cui l'analisi dell'azienda è sempre di AA, che seguo da quando è nata, è sempre stato uno dei punti, è sempre stata una delle mie aziende di diamante, fra virgolette, sia per i risultati, sia per lo sviluppo e la crescita, sempre in controtendenza. E l'anno del Covid ne è stato un evidente e chiaro esempio. Nell'anno del Covid abbiamo chiuso con circa 3 milioni di euro di fatturato, bilancio è disponibile, quindi non stiamo raccontando niente, il bilancio è certificato, signori, per cui stiamo parlando di sicuramente maggiori garanzie per i nostri interlocutori, per i nostri investitori. Per far capire anche come in realtà l'approccio di AA, ma questo ce l'hanno sempre con su di tutti i nostri interlocutori, ed è facilmente dimostrabile, è molto prudenziale. Nel nostro business plan, realizzato prima, ovviamente ormai a febbraio-marzo, noi avevamo già individuato il risultato economico dell'anno, avevamo già individuato il fatturato, avevamo già previsto cosa sarebbe successo nel 2020, alla fine del 2020, già a giugno 2020, attraverso una programmazione. Programmazione, e qui mi rallaccio poi al signore Riccardi, che in una qualche misura ci ha fatto una domanda sulla quale poi risponderemo dopo, un 2020 che ci ha fatto lavorare in anticipo, cioè grazie, diciamo così, un po' al trend, ai rumors, anche, diciamo, non dico alla sfera di cristallo, signori, però a ovvie valutazioni che magari non l'imprenditore, ma il team di consulenti sì, quindi con un approccio meno caldo, ma sicuramente più, e quindi meno emotivo, ma sicuramente più razionale, ci ha consentito di pianificare uno scenario, che poi è quello che si è verificato, in cui ci sarebbe stata una perdita di fatturato. E quindi questo ci ha consentito, vista anche l'importante, indiscutibile, perdita di fatturato del settore, di portare tutta una serie di contromosse, di reazioni e azioni che hanno consentito all'azienda di operare. Non dimentichiamoci che la Google A produce abbigliamento sport e sport, e che durante il 2020 e buona parte il 2021, tutto quello che sono le attività specifiche dello sport dilettantistico sono sempre fatte. Quindi come dobbiamo valutare un'azienda che ha come principale o aveva come principale modello di business l'abbigliamento sportivo per squadre di calcio e loro divisioni? Evidentemente l'azienda ha saputo rigenerarsi. E perché ha saputo rigenerarsi? Perché l'azienda non è un'azienda che è neonata, l'azienda è suddivisa con una produzione e un proprio pacchetto di clienti. Dubléa ha circa 398 clienti, tra il piccolo negoziante e il grande distributore nazionale, dove commercializza i propri prodotti. Dubléa ha una rete in franchising che annovera 22 punti vendita, oltre i 9 punti vendita gestiti direttamente con le due società consociate che sono, e partecipate evidentemente, che sono la AJA e la Dubléa, e la 2A chiedo scusa. Complessivamente, questo dati alla mano, nel 2020, 2A ha fatturato circa un milione e quattro, mentre AJA ha fatturato circa 670 mila euro, 700 chiedo scusa 70 mila euro. Quindi se andiamo complessivamente a vedere il fatturato del gruppo Dubléa, il gruppo cui parteciperebbe l'azionista del crowdlisting obstacle, oggi, non nel 2019, è un'azienda che fattura 5 milioni di euro, nel 2019 ne fatturava quasi 7, ovviamente. L'obiettivo ovviamente è quello di riprendersi, le aspettative ci sono, i risultati ci sono, ho già detto che il nostro business plan è sottostimato perché l'obiettivo per il 2021 sono oltre i 4 milioni di euro, noi ne abbiamo previsti 3-6, cioè noi abbiamo previsto di riprenderci quello che avevamo perso. Invece il nostro obiettivo è andare oltre. Oggettivamente, per un analista che leggerà il nostro business plan, gli obiettivi che ci siamo posti, evidentemente, non sono troppo sfidanti. Le sfide, la Dubléa le affronta sul campo, non le scrive, le combatte e le affronta sempre da vincente, dato quanto sennò non sarebbe un team di sportivi. A cosa mi riferisco? Che cosa succede se fondamentalmente chiudiamo l'operazione di crowd listing? Abbiamo posto due scenari, i 500 mila e i 2 milioni di euro. Allora, con i 500 mila euro, perché i 2 milioni di euro sono dei multipli, l'obiettivo della Dubléa, grazie, non sfuga questo, grazie alle partecipazioni di controllo delle società commerciali, arriverà a fare uno finanziamento infragruppo e consentirà l'apertura di due nuovi megastore. Due nuovi megastore dagli 800 ai 1000 metri quadri. Allora, signori, non ci vuole uno scienziato, non ci vuole un analista finanziario, noi sappiamo che nel commercio, mediamente, un negozio sviluppa 2,2 mila e 500 euro per metro quadro commerciale. Allora, quando noi abbiamo redatto il nostro business plan e abbiamo detto apriamo due megastore, il nostro obiettivo era 600 mila megastore disaturato per il primo anno, per poi arrivare agli 801 milioni dal secondo e terzo. In realtà, se noi andiamo a vedere, anche qua abbiamo sottostimato i risultati, per due motivi. Uno, perché l'economia del sistema, che ce lo dice. Il secondo è perché noi abbiamo l'esperienza di negozi paridimensioni, gestiti dalla 2A, che rispetto alla configurazione aziendale è l'azienda commerciale che commercializza, diciamo, che gestisce i grandi negozi, rispetto alla AJA che invece commercializza i piccoli negozi in centro storico, i bazar e i negozi di riferimento territoriale. 2A è invece quella che gestisce i grandi negozi. Allora, sulla base di questi numeri è facile che all'apertura di due negozi che hanno un costo orientativo di 100-150 mila euro a punto vendita, più ovviamente le spese di funzionamento e ovviamente il capitale circolante di funzionamento di avvio, evidentemente, sono l'obiettivo e che garantiscono, non ovviamente si aspetta di raggiungere, ma garantiscono l'obiettivo per l'ovvia capacità commerciale. Ancora, signori, se raggiungiamo l'obiettivo di 500 mila euro, io qui non vi nascondo, per fortuna che arriva Alessandro all'audio bloccato, mi sono anche un po' arrabbiato, perché la AA aveva una grande opportunità, che è quella di iscriversi tra le PMI innovative. Ma perché dico questo? Perché in realtà il format AA e soprattutto il format della gestione dei lotti ai sport e ai linea quattromori sono stati ideati attraverso una piattaforma di commercio online dedicato, Vesti i tuoi team, e essi vorrebbero diventare una linea di abbigliamento specifica per i team sportivi attraverso la creazione di una piattaforma che consente di realizzare i propri coordinati e il proprio merchandising. Questo tanto per le piccole squadre, tanto per le grandi squadre. quindi la possibilità attraverso una piattaforma e un'applicazione di vestire fisicamente il proprio avatar con i colori del proprio team, quello che esiste, che ha una storia o quello che si andrà a costruire, sono un aspetto esclusivamente innovativo nell'innovazione di prodotto che AA sta lanciando a livello nazionale ed internazionale, ma che non ha evidentemente rivali, che costituiva un elemento e costituisce un grande elemento di innovazione, non dimenticandoci che i siti sono già, a prescindere dai risultati del crowdfunding in fase di costruzione, e vesti il mio team.it, vesti il tuo team.it.com. E questo... Posso interrompere un attimo? Il discorso è molto importante, tante volte nella nostra azienda, nell'evoluzione, è che ci sono tanti avvenimenti, è difficile cristallizzare al momento tutte le cose. Nel senso, vi faccio un esempio, la settimana scorsa abbiamo firmato due contratti di distribuzione internazionali molto importanti, uno con il Belgio e l'altro con l'Ungheria, poi Avantieri, per dire, ha chiamato in azienda, ci ha contattato un nuovo distributore inglese. Queste sono tutte cose che non si possono scrivere fino a quando non sono realizzate, i giorni scorsi sono state realizzate, ecco perché probabilmente anche i nostri piani o comunque tutto quello che scriviamo sono le cose certe. Poi tutte le cose in divenire non sono mai cose che si possono fissare. Era una cosa, questa dei siti dal quale parlava il dottor Marchioli, che stavo pensando al diverso tempo, sono cose adesso sulle quali stiamo lavorando e che lancieremo, lancieremo purissimamente. Quello importante quando si lavora a cercare a fare con esport è da capire che, premesso che il mio pensiero è sempre che realmente, subito nel nostro mercato, resisteranno solo quelli più forti, quelli più grandi e quelli che si evolvono, chi arriva a secondo è sempre uno che sta dietro. Quindi alla fine c'è deve essere sempre una trasformazione continua, un pensare e migliorare sempre il tutto. Quindi cristallizzare tutto a un determinato momento diventa molto, molto difficile. Però in questo momento, in ogni caso, partiamo da le cose certe che è la nostra struttura aziendaria, il nostro prodotto, il nostro now e la notorietà del nostro marchio che sta andando sempre a crescere. Allora, grazie Giacomo Marchiori, analista finanziario, grazie Alessandra Riu. In attesa vedo che Alessandra Jakubowska ancora ha problemi, non la vedo collegata, non so se ci sia. Ballerina. Allora, a questo punto io proseguirei il webinar dando la parola ad Anna Raschi, che è la business operation manager di Upstart, che abbiamo detto la piattaforma, che affianca iSport in questo percorso, porta al crowdlisting. Prego. Buonasera a tutti. Io sono, come mi ha introdotto Fabrizio, sono Anna Raschi e all'interno del team di Upstart mi occupo delle operation. In questo webinar, appunto, mi è stato chiesto di fare un po', di introdurre un po' chi è Upstart, come funziona l'equity crowdfunding e soprattutto come funziona il crowdlisting. Upstart è un'impresa che opera nel settore fintech, cioè il settore che rappresenta il connubio tra mondo finanziario e innovazione tecnologica. Quindi utilizziamo gli strumenti tecnologici per introdurre innovazione ed efficienza anche talvolta al mercato finanziario, offrendo ai nostri clienti che sono sia le imprese, sia i risparmiatori, gli investitori, offrendo loro gli strumenti finanziari più adatti alle loro esigenze. In particolare Upstart lavora con il crowdfunding, quindi lo strumento che ti permette di realizzare raccolte di capitali online e siamo leader nel segmento dell'equity crowdfunding. Quindi l'anno scorso, nel 2020, ci siamo qualificati come primo gestore italiano per ammontare di capitali raccolti tramite appunto equity crowdfunding. Quindi all'interno del mercato siamo stati, nonostante l'anno del covid, siamo stati il primo operatore, quello che ha raccolto più capitali, in particolare quasi 23 milioni. Ma che cos'è l'equity crowdfunding? Si tratta di un'opportunità nuova per le imprese e per gli investitori, anche per i piccoli risparmatori, che grazie a questo strumento appunto possono investire in maniera diretta e disintermediata, nel capitale sociale di start-up e piccole e medie imprese. In particolare ad esempio Dabola si tratta di una piccola e medie impresa, sempre società che non sono quotate, quindi le loro azioni, le titoli di partecipazione non sono disponibili in altro modo se non appunto attraverso queste campagne che avvengono online. Partecipando a una campagna di equity crowdfunding un investitore diventa socio, quindi acquista un titolo di partecipazione nel capitale sociale dell'azienda di riferimento e si tratta sempre di realtà concrete, quindi generalmente noi facciamo una valutazione molto ferra, molto stringente, quindi anche si tratta di aziende ad alto potenzialità di crescita, operanti in settori innovativi o attraverso tecnologie e metodi innovativi che generano un forte impatto sullo sviluppo del tessuto economico del territorio, del paese eccetera eccetera, quindi si tratta proprio di investimenti in economia reale. D'altra parte invece per l'azienda l'equity crowdfunding rappresenta un'opportunità di raccogliere i capitali necessari per crescere, per portare avanti i propri piano di sviluppo, così come abbiamo sentito raccontare appunto dai precedenti relatori e lo possono fare da una platea di investitori di diverso tipo, quindi sia piccoli risparmiatori ma anche investitori professionali. Questi capitali appunto poi verranno utilizzati per portare avanti il piano economico di sviluppo della società. La cosa interessante dell'equity crowdfunding è che l'investitore può partecipare a partire da cifre molto contenute, quindi a partire anche ad esempio nel caso di Double A il minimo è di 1000 euro, quindi da cifre decisamente contenute. Questo fa del crowdfunding in generale uno strumento molto democratico a portata di più o meno tutti i portafogli e che permette agli investitori di accedere anche a opportunità di investimento che una volta era una prerogativa invece di fondi di private equity piuttosto che di venture capital e che in questo caso diventano appunto una possibilità per tutti, quindi appunto accedere nel capitale sociale di società non quotate. Ma in questo caso per Double A si parla addirittura di un crowdlisting, quindi che rappresenta in realtà uno step in più rispetto all'equity crowdfunding. Double A è in particolare la quarta società a seguire il percorso di crowdlisting, che è un percorso che abbiamo proprio studiato noi di Upstart ed è dedicato esclusivamente a società, start-up o piccole e medie imprese che hanno caratteristiche idonee per affrontare una quotazione. Perché? Perché crowdlisting rappresenta l'unione di equity crowdfunding e direct listing. Quindi una volta completata con successo la raccolta di capitali mediante appunto lo strumento dell'equity crowdfunding, il passaggio successivo diventa la quotazione su un mercato, in questo caso scelto dal mercato scelto è Euronext. E perché rappresenta un'evoluzione dell'equity crowdfunding? Perché supera alcuni limiti classici di questo strumento, in particolare la liquidità delle quote, perché l'equity crowdfunding infatti appunto non ha un mercato secondario, non esiste ancora uno strumento, un mercato finanziario per questo strumento, è un mercato secondario scusate. E di conseguenza l'investitore ha la problematica di come liquidare il suo investimento, comunque lo può fare solo in occasione di eventi di exit, quindi in occasione di fusioni, acquisizioni eccetera. E invece tramite crowdlisting i nuovi soci, gli investitori che entrano durante la raccolta in equity crowdfunding hanno la prospettiva sicura di rendere liquido il loro investimento attraverso appunto la quotazione, perché sanno già che l'azienda intraprenderà successivamente il percorso che la porterà alla quotazione e quindi a rendere le azioni liquide sul mercato di riferimento scelto. E ritorno un attimo indietro quando parlavo appunto della valutazione delle società, no? Noi non concediamo a tutte le società che vengono da noi di attivare una campagna di crowdlisting proprio perché è un percorso complesso, è un percorso anche che richiede una certa responsabilità nei confronti dei soci che entrano, è un percorso anche che prevede appunto che la società sia pronta per affrontare una quotazione e viene fatta tutta una due diligence, un'analisi dei risultati della società e anche c'è un percorso che deve rendere la società pronta ad affrontare. In questo caso Davola ha superato questa due diligence che è, ripeto, molto impegnativa proprio perché l'abbiamo ritenuto una società pronta a portare avanti e ad affrontare la quotazione. Perché abbiamo scelto iSport e Davola? Perché è un'azienda, come dicevano nell'introduzione, è un'azienda molto solida che ha alle spalle anni di fatturati in crescita, quindi presenta una forte dinamica di crescita della società e appunto a parte una leggera battuta dovuta fondamentalmente all'arresto dell'economia dovuta all'impatto del Covid, i capitali della campagna servono proprio anche per rilanciare questa dinamica di crescita. Oltre a questo, insomma, ci si tratta di un'azienda con un'importante esperienza alle spalle, è un grande potenziale, un brand emergente che acquisisce diverse squadre in settori diversi, quindi dalla pallavolo, al calcio, al basket, con partnership di livello importante a livello nazionale e anche l'importanza alla base di un'esperienza imprenditoriale di Alessandro Ariu che, insomma, ci ha già un po' raccontato che comunque consente anche da parte degli investitori di avere più fiducia rispetto al business. Sicuramente non si può negare che la parte di team, la parte di esperienza imprenditoriale è fondamentale. Quindi questo ci ha convinti rispetto alla selezione su AA e non dimentichiamo che comunque si tratta di una PMI, quindi una società non più una startup, una società con delle metriche, con delle traction e quindi con anche un potenziale di sviluppo molto elevato. questo io ho concluso il mio intervento, in realtà poi ecco, essendo tecnica la cosa, se poi ci sono domande dopo sono assolutamente disponibili. Vediamo ovviamente appunto se le domande, se ti arrivano domande, di girarle anche a Naraschi. È la volta, e chiudiamo appunto il seminario, il webinar per quanto riguarda gli interventi dei relatori, in questo caso vedo collegata, spero che sia online, Alexandra Iacubosca, responsabile dell'ufficio acquististica, che dovrebbe parlarci della gestione degli ordini e di produzione. Vediamo se Alexandra è in linea, altrimenti leggerei già la prima domanda e poi se dovesse ricollegarsi vediamo di dare la parola. Allora direi, visto che la vedo un po' frizzata, come si dice in gergo. Cioè la domanda di Davide, già l'avete in qualche modo, forse Giacomo stesso l'ha sottolineata, e chiedono qualcosa sull'indebitamento della società e sul turnover di magazzino. Ecco, chi volesse rispondere? Non so se è Alexandra Iacubosca o Giacomo Marchiori. Fabrizio, se mi permetti prenderei la parola per due minuti. Uno, perché non ho manco finito di parlare prima, e quindi così mi riprendo la parola. E poi, perché ho già ringraziato il signor Riccardo e quindi occasione poi di spiegarvi anche il perché, evidentemente. Due paroline due, signori, ma giusto due. Sulla valutazione, che è importante, perché un aspetto, l'aspetto determinante di quando si fa una valutazione di un'azienda che esiste, è determinare, e questo per fortuna viene un economista anglese, Aldebaran che ci aiuta, il rendimento di capitali di rischio. Ok, sulla base del rendimento di capitali di rischio, con esattività che esiste, proprio come ci spiega l'economista, si determina il multiplo sulla quale viene generata la valutazione. E noi abbiamo utilizzato un sistema internazionale che ci dice che la nostra società vale 20 milioni di euro. In realtà, però, se noi andiamo a vedere il nostro piano, la valutazione pre-money della Dubléa è 25. Perché? Perché con la chiusura, ovviamente con la chiusura del 2021, l'obiettivo di reddito e di valutazione è già 25, ovviamente. Poi noi andiamo in sconti, in termini di offerta sul tempo, ma i fondamentali e i numeri di un'azienda che esistono dicono questo. E qui mi consento di ricollegarmi al signor Riccardi, che presumibilmente avrà già avuto modo di visionare il bilancio. Ebbene, signor Riccardi, in parte questa risposta a ragione Fabrizio gliela dobbiamo dare in due. Stiamo parlando di andamento dell'indebitamento e di turnover delle merci. Due aspetti che, ovviamente, nell'ambito dell'azienda Dubléa sono assolutamente connessi. E lo sono stati notevolmente nell'ambito del 2020 come andamento. Infatti, oggettivamente, il bilancio ci dice una cosa molto chiara. L'indebitamento tra il 2019 e il 2020 è aumentato di 800.000 euro. Non dimentichiamoci che il 99% delle aziende hanno goduto di un indebitamento di 800.000 euro perché era, rispetto al decreto liquidità dell'8 aprile 2020, era uno strumento controgarantito il 90% dallo Stato, con 24 mesi di pre-ammortamento e 7 anni per la restituzione. Questo strumento, ovviamente, disponibile per l'azienda che, come Dubléa, ovviamente ha avuto una contrazione di risultati, è stato sfruttato per due aspetti sostanziali. Il primo è perché il signor Riccardi ha una famiglia, per cui, prima di tutto, si è posto due obiettivi. Pagare regolarmente i propri lavoratori, è una perdita di fatturato, comunque, è importante, perché ci siamo parlando di un'azienda che complessivamente dà da lavorare a 50 famiglie, fondamentalmente tra tutte le aziende, tra tutte le tre sue società, evidentemente, e l'altro aspetto è stato quello, da un punto di vista di debiti, ovviamente di pagare i fornitori, perché anche i fornitori hanno una famiglia e quindi anche loro avevano necessità di incassare. Credo che sia una delle poche aziende, la Dubléa, che ha contratto i debiti verso i fornitori in questo anno e li ha contratti per 200 mila euro. Allora, ecco che gli 800 mila euro di incremento di debito, se andiamo a vedere la diminuzione dei debiti verso i fornitori, stanno passando a 600 mila euro. Se poi andiamo a vedere l'incremento del valore patrimoniale, che ha effettuato il signor Ariu, che è aumentato di 200 mila euro, nettizza l'incremento del debito a 400 mila euro. Se poi andiamo a vedere l'incremento delle rimanenze, passiamo esattamente a un incremento di 400 mila euro. Ma perché un incremento di dimensioni di 400 mila euro? Fondamentalmente perché la Dubléa non commercializza prodotti di altri, ma bensì commercializza, produce e commercializza abbigliamento proprio. È chiaro che quando l'azienda poi probabilmente ci aiuterà meglio... Ti posso interrompere un secondo? L'aspetto importante è stato quale? Che noi questo settembre, quest'ottobre, abbiamo realizzato il nostro record di fatturato, perché dopo le riaperture, diciamo che l'azienda veramente siamo schizzati come fatturato a livelli molto importanti. Logicamente i nostri siti produttivi sono... Diciamo la fase finale della lavorazione viene svolta in Estremoriente, come dice la gente, i nostri laboratori è che o dal Pakistan o dal Bangladesh, dove abbiamo i nostri siti produttivi di proprietà per certi versi. Logicamente poi abbiamo un mese di spedizione di via nave. Cos'è successo? Che appena hanno chiuso di nuovo con il lockdown, se non mi ricordo male, tra fine ottobre e inizio novembre, che era per noi, quando noi abbiamo dovuto decidere la partenza delle merci, era praticamente fino a settembre, abbiamo detto sì, se continuiamo così, chiudiamo l'anno col bot, recuperiamo e aumentiamo il fatturato perché come avevamo deciso. In realtà poi, quando le merci sono arrivate a fine ottobre, hanno deciso il lockdown e questo ci ha di nuovo fatto crollare i fatturati, abbiamo chiuso praticamente, i franchising hanno chiuso tutti. Quindi ci siamo trovati un fine anno, cristallizzando al 32 dicembre le già scienze, le già scienze a un livello molto più alto. Poi cosa è successo? Sendo comunque prodotti nostri, tra virgolette, noi decidiamo le linee, controlliamo tutta la filiera, tutto quello che è stato il surplus di magazzino che ci siamo trovati a dicembre, sono stati, chiamiamoli, mancati acquisti o mancante produzioni nei mesi successivi. Infatti in questo momento, se potevessimo andare a cristallizzare il magazzino, in questo momento il magazzino è di nuovo più basso, gli acquisti sono stati inferiori e tutto è tornato alla normalità. Questo è il giochetto su quale spiegare tecnicamente le cose. Probabilmente siamo andati anche troppo avanti, non so il signor Riccardi, come avessi impostato questa domanda, però comunque la realtà dei fatti è questa. E ad oggi, considerate che abbiamo superato il pari periodo del 2019, chiuderemo a giugno praticamente con un più 15 rispetto al pari periodo del 2019, che è stato l'anno di fatto più superiore. E ripeto, per quelli che sono oggi gli ordini, gli ordinativi che abbiamo in essere, abbiamo un sistema, sia un sistema gestionale aziendale, sia un sistema per le vendite, e quindi siamo in grado di cristallizzare quanto meno i movimenti delle vendite al minuto, chiuderemo il 2021 sfondando il muro dei 4 milioni e arrivando con quasi certezza intorno ai 4 milioni e mezzo. Allora, c'è un'altra domanda, tanto perché vedo che Alexandra è ancora ha qualche problemino di connessione, e di domanda di signor Renzo Contenta, che chiede quanto è importante investire in un reparto creativo al fine da differenziarsi rispetto ai competitor nel mercato. Anche in questo caso Alessandro, e poi nel caso Giacomo. Beh, è basilare, è della base delle nostre linee, del nostro progetto. Diciamo che ci sono aziende concorrenti che se uno copre il marchio rischia di confondere con altri. iSport sempre, partendo dal design principale, ai piccoli dettagli, abbiamo tutto fatto in maniera originale. Cerchiamo sempre di percorrere strade diverse, sia che partano dal design, allo studio del prodotto, all'assemblamento dei prodotti, alla tecnicità, alla qualità di tutta la filiera che controlliamo, perché adesso giusto per spiegare in maniera molto semplice a chi magari non è del mestiere, oramai dall'Adidas, Nike, alle multinazionali, alle aziende più piccole, la maggior parte, diciamo che, vanno a delegare ad altri tutto il ciclo produttivo ed esclusivamente realizzano il disegno. Noi invece andiamo ad acquistare, con il nostro ufficio acquisti, in giro per il mondo, il tessuto, tutti gli accessori, i bottoncini, per dire che adesso questa polo che indosso ha anche il bottoncino personalizzato. Sono piccoli particolari, piuttosto che il bottoncino di ricambio all'interno. tanti piccoli particolari che andiamo a controllare in maniera diretta e controlliamo la gestione di tutta la filiera. Questo è quello che ci differenzia in maniera importante e tutti i design partono dal nostro ufficio design, quindi è assolutamente basilare lavorare con un ufficio design e prodotto che sia interno e che non vada a scopiazzare disegni di altri, ma che lavori con originalità. Intanto ci sono due commenti, uno di Paolo Mantinti che dice complimenti vivissimi, professionalità percepita al 100%, devo lasciare ma sicuramente approfondirò con Maromer il mio interesse nel vostro progetto. Poi ci diciamo Davide Riccardi che dice avevo visto che il ciclo, ci ringrazia ovviamente delle risposte e dice che appunto il ciclo di AI tra il 2017 e il 2019 i costi di debiti assorbivano il 50% dei debiti, ma è stato chiarito di cosa stavamo parlando poi alla fine, quindi è importante aver chiarito questi passaggi. Detto questo, mi pare di non trovare altri, no c'è un'altra domanda di Stefano Bussolotto che chiede i siti produttivi sono supervisionati da personale italiano o quantomeno interno dell'azienda o da personale del luogo? Quindi Alessandro. Assolutamente da personale nostro, ok, non italiano, ma persone che vivono sul posto, persone che sono state diciamo in maniera molto stretta, formate che sono giornalmente giornalmente controllate e con la quale abbiamo massima fiducia e poi abbiamo partnership nei siti produttivi dei quali tra l'altro deteniamo diversi macchinari, ok? Quindi diciamo che il controllo è molto stretto, tutti quelli che sono visto che è il Superbus 8 tra l'altro è una persona che mi ha contattato e sicuramente parliamo la stessa lingua, diciamo è una del mestiere, la maggior parte dei macchinari quelli più tecnici sono di nostra proprietà tutti i siti produttivi rispondono a piani di produzione che rediamo noi in tutti i passaggi e che giornalmente controlliamo. Questa è la base per poter essere come dice la signora Jacubosca just in time. Just in time. Allora, visto che Alessandro ha dei problemi io se non avete nulla incontrato chiuderei qui perché non ci sono altre domande ovviamente dico a tutte le persone che ci stanno seguendo questo video sarà registrato e quindi lo troverete anche in rete da qui in avanti si potranno eventualmente fare domande agli interessati attraverso tutti i canali social di iSport per tutto ciò che riguarda invece il piano prima è stato detto anche conviene sempre guardare il business plan per avere un quadro completo del percorso che porta iSport appunto all'Euronext di Parigi allora io ringrazio di cuore ovviamente i relatori Alessandro Ariu CEO e founder di iSport Giacomo Marchiori la lista finanziaria abbiamo detto che Alessandro purtroppo ha avuto dei problemi tecnici la ringraziamo comunque per essere stata presente l'abbiamo intravista qualche volta e ultima ma non certo per importanza Anna Raschi business operation manager di Opstar la piattaforma che affianca iSport in questo percorso grazie ovviamente a voi grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e buon proseguimento di serata a tutti grazie a tutti arrivederci grazie a tutti